Siamo con il sindaco di Portuguaro, Maria Teresa Senatore, venerdì, sabato e domenica prossima inizierà Terra dei Dogi, la quindicesima edizione. Ci può illustrare quali sono le novità e come arrivate come amministrazione a questo appuntamento. Innanzitutto buongiorno a tutti, quindicesima edizione, quindicesima edizione Terra dei Dogi, ma quarta edizione di Fiera del Bio che è iniziata quattro anni fa con l'evento di Fiera di Sant'Andrea e è iniziato ad essere costante con Terra dei Dogi. Gli eventi importanti di quest'anno ovviamente sono il reiterare storico di quanto già è stato consolidato del tempo, ma un evento importante è la presentazione del nuovo brand, della nuova immagine di Portuguaro che avrà un nome particolare, Piacere Portuguaro, piacere quindi come momento di accoglienza, come stretta di mano, piacere nel vedere le bellezze di Portuguaro, piacere nell'aggustare le eccellenze enogastronomiche, piacere nell'ascoltare la nostra grande eccellente musica, piacere nel vedere i nostri magnifici monumenti. Un invito particolare a tutti, venite a Portuguaro, ascoltate la nostra musica, fruite degli nostri stand, venite a vedere quanto i nostri imprenditori siano abili nel preparare vini e pietanze, venite ad accogliervi, ci saremo tutti con una grande stretta di mano e con piacere Portuguaro.